È molto importante che la Regione, gli enti locali dell'Umbria e il sistema delle imprese sociali facciano una riflessione su come innovare il sistema dei servizi, su come mettere più attori a pensare un sistema nuovo. Di fronte alla crisi abbiamo bisogno di più solidarietà, non di meno solidarietà e di un'impresa sociale molto innovativa. E questa giornata di studio e di approfondimento è stata molto utile anche per chi come me ha un ruolo in Parlamento.